E ora voltiamo pagina, festa di San Martino nel borgo di Montegrosso, una frazione di Andria, un'occasione per la valorizzazione del territorio a partire dalle sue ricchezze enologiche, ma non solo. Buono, pulito e giusto per due giorni a Montegrosso, un segnale simbolico, un territorio che si apre, non solo all'innovazione, come sempre accade, ma la voglia di stare assieme, di mettere assieme i territori, le esperienze, le sensibilità, le emozioni, artigiane, laboratori per bambini, ma soprattutto consumo consapevole e crescita responsabile. Questo fa Slow Food, col suo imperativo morale, buono, pulito e giusto, un dettato che il nostro papà fondatore Carlo Petrini, Carlin per tutti quanti noi, ha diffuso come testamento per le generazioni future. Siamo la proloco del cibo, come qualcuno ci definisce, valorizziamo il territorio, proviamo a farlo insieme per costruire un percorso più strutturato, sinergico, quindi più virtuoso. Ci auguriamo di fare del bene, di diffondere e sensibilizzare il consumatore, ma anche il produttore, stare vicino al produttore, secondo la filosofia dell'associazione. Ho il dovere di ringraziare coloro che sono stati i promotori di questa splendida iniziativa, a cominciare dall'assessorato alla cultura e al turismo e al marketing del Comune di Andri, l'assessore Magliano, al presidente del Parco Nazionale dell'Altamurgia, Cesareo Troia, e al Gall e a tutti coloro che hanno collaborato, allo Slow Food e a tutti coloro che hanno collaborato veramente in termini eccezionali. Quando si fa squadra io credo che alla fine vengono fuori le cose più belle, perché al contrario poi di quello che si dice, al contrario di quello che si scrive, poi rimangono i fatti e i fatti sono che Andria e il nostro territorio è pronto per andare sempre avanti, per andare incontro a uno sviluppo anche a livello turistico di portata sempre maggiore e questo per noi è una grossa soddisfazione. Peraltro con dei costi praticamente pari a zero per l'ente comunale, il che non significa che questa festa non abbia sostenuto dei costi, ma per quanto riguarda il Comune, ecco, questa è una cosa importante in questo momento da evidenziare, è comunque una festa a costo zero e direi che non manca nulla, questo grazie all'aiuto di tutti coloro che hanno collaborato dalla Piscara, dal Gal, dallo Slow Food, dal Parco e tutte le associazioni, dalla strada dei vini e da tutti i cittadini, dal saluto della creatività, quindi tutti quanti abbiamo voglia di crescere, abbiamo voglia ancora di dare e penso insomma che qualcosina abbiamo ancora da dire.